Dopo le dichiarazioni di Romina e Albano, ora è stato il turno di Loredana Lecciso, video. L'ex showgirl Salentina è stata ospite nel salotto di Merissimo per raccontare a tutti i telespettatori il suo punto di vista sul polverone mediatico che si è alzato in questi giorni. Ricordiamo che una settimana fa la cantante americana aveva dichiarato a Silvia Toffanin di provare del sentimento per l'ex marito e che anche lui ricambiava. Delle parole forti che hanno immediatamente acceso le speranze dei fan ma che si sono spente dopo la replica di Carrisi al Corriere della Sera. Quest'ultimo ha affermato che la sua storia con la Power si è conclusa da molto tempo e che da diversi anni ama Loredana.Oggi, sabato 14 ottobre 2017 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata dalla 500 alla 1 Merissimo e come annunciato nel paragrafo precedente, Cancelletto Loredana Lecciso sarà ospite della Toffanin. La Salentina ha affermato che le parole di Romina le ha trovate in certi versi molto divertenti ma discutibili. Forse come mamma di due figli ha gradito di meno l'ironia della Power.La donna ha raccontato che lui e Albano stanno insieme da circa 17 anni e sin da subito ha avuto una forte gelosia nei confronti della cantante statunitense, poi col tempo ha capito che il suo compagno ama solo lei e ora lo è molto di meno. La madre di Yasmine ha confessato alla conduttrice di non aver mai partecipato ai concerti della storica coppia perché era un momento loro.Per lei è stato più bello vederli cantare su un palco piuttosto che litigare in un'aula di tribunale.La relazione tra il cantautore e l'Alecciso va a gonfie vele in poche parole.Le affermazioni fatte dall'Alecciso sono simili a quelle rilasciate dal suo compagno Carrisi ad un noto quotidiano nazionale. Il cantautore pugliese in quell'occasione ha chiesto alla stampa di non accanirsi sulla sua vita privata perché ne potrebbe risentire la felicità dei figli. Durante l'intervista Albano ha affermato che le affermazioni fatte dall'ex moglie non sono state ironiche ma del tutto fuori luogo. Dopo l'intervista di Loredana Averissimo dobbiamo aspettarci altri sviluppi? Sicuramente questa telenovela mediatica continuerà ancora appunto per conoscere altre parti dell'intervista di Loredana Alecciso, ma anche per altre curiosità e informazioni su Albano e Romina, video, cliccate il pulsante segui. Cancelletto Romina Power Cancelletto Albano Carrisi